Prendiamo la linea, dati buon mattino. Sì Giacomo, e lo facciamo dando il buongiorno a Don Romano. Don Romano. Buongiorno Don Romano. Ciao Don Romano, ben trovato. Don Romano, stiamo raccontando con te anche, abbiamo raccontato il periodo che stiamo vivendo, in attesa della Pasqua, la Quaresima, e possiamo immaginare in questo periodo proprio Gesù che bussa un po' le nostre porte. Lo possiamo proprio immaginare così. Cosa vuol dire? È il tempo della benedizione delle famiglie e quindi si tratta davvero di bussare alle porte di tutte le case e di tutti i cuori, non solo di chi ti sta aspettando ma anche di chi rimane sorpreso o di chi non vuole e ti chiude la porta in faccia o non ti apre. Però Gesù bussa e quel bussare prima o poi porterà effetto. È una tradizione che noi conosciamo, insomma ormai consolidata particolarmente in questo periodo, ma come nasce Don Romano la consuetudine della benedizione delle case e delle famiglie? Nasce da tanti aspetti. Quello che si ricorda e che i nostri nonni ricordano è soprattutto quando il sabato santo si benedicevano le case e soprattutto le mense, si andava a benedire le uova, a benedire la mensa e quindi è quel momento in cui si fa l'esperienza della resurrezione di Cristo, quindi si annuncia la resurrezione di Cristo o in qualche caso si anticipa durante la quaresima per prepararci a vivere questo momento. Don Romano è molto bello quello che ci stavi raccontando, proprio il bussare le porte di tutti, anche di quelli più lontani, anche dei peccatori, perché tutti ci sentiamo accolti da Gesù. Questo lo approfondiremo subito dopo perché adesso è arrivato il momento di dare la linea all'udienza a Papa Francesco. A più tardi. Riprendiamo la linea dopo la consueta udienza del mercoledì, in una giornata, l'abbiamo detto, tutta speciale perché oggi ricorrono proprio gli undici anni di pontificato di Papa Francesco a cui rinnoviamo naturalmente i nostri auguri e noi in studio, in questo studio che è un po' una casa, abbiamo Don Romano De Angelis nuovamente da prima, di buongiorno Don Romano. Buongiorno ancora. E dicevamo, è un po' una casa come le case che tu visiti, come i sacerdoti visitano proprio in questo periodo, nel periodo precedente la Pasqua, per la consueta benedizione delle case. Sì, andiamo davvero a bussare a tutte le porte, non solo a chi ci invita o a chi ci aspetta, perché è il Signore che fa così ed è un modo per portare anche a chi vive in situazioni difficili la benedizione del Signore, che non è un'approvazione di quello che si fa, ma è una proposta d'amore che è comunque sempre gratuita, proprio come faceva a Gesù, quando passando e entrando a Gerico ha visto Zaccheo sul sicomoro, non gli ha detto se scendi e mi prometti che cambi vita vengo a pranzo da te, io vengo a pranzo da te e quel gesto d'amore gratuito ha cambiato il cuore di Zaccheo, così come con altre persone, per cui ecco è un momento di grazia quello della benedizione. Don Romano, è un momento che avviene da quando? Quando nasce? Da quando si benedicono le case? In alcune parrocchie si benedicono, nella parrocchia precedente dove ero, si benedicevano da dopo Pasqua, qui lo facciamo come nella maggior parte delle parrocchie in Quaresima, il ricordo per tutti è il famoso sabato santo, prima della riforma liturgica, quando a mezzogiorno si scioglievano le campane, i predi uscivano, andavano a venire le mense, le uova sode e la mensa di Pasqua, però indipendentemente dalla collocazione è il segno di quella vita nuova che nasce dalla Pasqua e che il Signore porta, perché la benedizione non è una semplice approvazione ma è vita, Dio che dice bene, cioè Dio che crea, Dio che ama, Dio che fa vivere e che c'è di più bello che fa rivivere o meglio proporre la vita nuova a chi magari non ci crede nemmeno più nella possibilità di una vita nuova e si è indurito in una vita di peccato e Dio bussa per dire io se vuoi ti faccio rinascere. Le immagini che stiamo vedendo sono immagini di repertorio che abbiamo che ritraggono proprio Don Romano alle prese con il momento della benedizione in cui capillarmente entri nelle case delle persone, proponi appunto la presenza di Gesù nella casa delle persone e tante case, tante famiglie e tante situazioni diverse naturalmente, c'è chi magari è più lontano dalla fede, c'è chi è di un'altra religione, ci sono tantissime situazioni che si incontrano, vero? Sì, tantissime situazioni che si incontrano anche di tanta gente anziana sola e spaventata perché magari è stata truffata e allora il segreto è suonare a tutti i campanelli del piano perché magari vorrebbero aprire ma hanno paura e vedendo le altre persone che aprono, che ti riconoscono, si fanno coraggio e aprono anche loro. C'è gioia e c'è tristezza, c'è solitudine, c'è paura e ci sono persone di altre religioni che però ti offrono un caffè, ti danno la mano e c'è un clima di accoglienza. Simpatica una signora dello scorso anno che mi ha aperto dicendo io sono atea, dico piacere signora ringrazio che ha aperto perché così posso salutarla, padre ma io ho aperto apposta per salutarla e ringraziarla. Di che? Sa, io abito di fronte alla parrocchia e ci sono tante cose belle che fate, vi faccio i complimenti, molte anche divertenti, vengo a dare un'occhiata da lontano ogni tanto, dico ma entri, ci fa piacere e dentro di me dico ma guarda che bello che una persona atea apre per ringraziare, mentre volevo io semplicemente salutarla. E poi ho pensato a tanti parrocchiani invece che magari vengono anche tutti i giorni ma sono infastiditi perché i bambini fanno rumore, è un po' imbarazzante perché nelle case è bello il chiasso dei bambini, è brutto quando si sta soli, è ovvio che i bambini fanno rumore, ma fa più rumore il sussurrare pettegolezzi e calunnie che vociare e festeggiare e fare un po' caciara dei bambini, quindi ecco la benedizione ci mette a contatto con questa realtà e ho notato siccome le famiglie sono tante ed è importante poter visitare tutte, delicatamente nel senso che la visita è breve non tanto perché andiamo di corsa ma perché se fosse una visita lunga alcuni magari ti direbbero padre non ho tempo, non ho possibilità invece è così, è come un bacetto in qualche modo che uno va a dare, poi ci può essere una persona malata e si prende nota e si torna per portare la comunione, una persona con cui si ridà un appuntamento per approfondire un discorso ma la cosa bella è vedere dei giovani preti che ci aiutano e che fanno delle esperienze stupende, cioè è una vera e propria esperienza pastorale straordinaria con una responsabilità perché non si tratta di passare in casa velocemente e io amo sottolineare c'è la tradizione che alcune famiglie lasciano un'offerta per la parrocchia ma io sottolineo a chi collabora con noi che è vero che noi viviamo di carità, non abbiamo dei proventi ma non andiamo a battere cassa, andiamo a donare innanzitutto, siamo grati ovviamente perché non si può non essere grati perché abbiamo bisogno ma non andiamo per battere cassa, andiamo per offrire, per donare, per dire una parola buona ma soprattutto per dire la parola buona per eccellenza che è la parola di Dio ed è la benedizione di Dio, cioè Dio viene a portare amore. Grazie Don Romano, vogliamo scoprire un progetto, andiamo a Foligno dove c'è un progetto che si chiama Casa Felice e ci accompagna il nostro Simone Nestori, guardiamo. Il progetto Casa Felice nasce durante una celebrazione di cresime quando un ragazzo ha il coraggio di andare al microfono nella preghiera dei fedeli e dire queste parole, Gesù ti prego per la pace tra i miei genitori. Dicendo queste parole consente alla fine della celebrazione di fare appello agli adulti presenti e c'è davvero tanta sofferenza in tutte le case, se noi vogliamo essere felici dobbiamo introdurre nelle nostre case sempre più Gesù, la sua parola, la sua fraternità e mettere da parte Satana, il divisore. E così è nato questo progetto che si riferisce a un altro progetto, è il progetto delle famiglie del Vangelo, cioè le parrocchie che si strutturano in termini di famiglia con piccole comunità. Ebbene, il progetto Casa Felice è il versante, diciamo, domestico di questo progetto più ampio. Abbiamo realizzato un piccolo percorso, un sussidio, che ruota intorno a un segno, che è una grande casa consegnata a tutte le parrocchie, a tutte le comunità, a tutte le attività diocesane. Tutti i ragazzi, i gruppi e i giovani sono invitati a costruire questa casa. Essendo Quaresima, da noi è tradizione anche la visita e la benedizione delle famiglie. E all'interno della benedizione della famiglia si coglie l'occasione per illustrare e spiegare come si svolge il progetto Casa Felice. Il progetto Casa Felice si sviluppa in tre passaggi. Il primo passaggio consiste nella recita della preghiera diocesana, che è una preghiera scritta dal Vescovo di consacrazione a Gesù. Dopo questo passaggio si passa al secondo momento, che è avvicinarsi alla parola di Gesù, quindi diciamo un mese dedicato al primo passaggio e poi cominciare la lettura quotidiana della parola, perché la parola di Gesù è una parola che salva Gesù con la parola scaccia Satana. Il terzo passaggio è proprio il riunirsi, magari con un caffè, a casa di qualcuno che ha già fatto i primi due passaggi, per condividere insieme e confrontarsi insieme sulla parola appena letta. Una modalità che solo Cristo ci può dare, il riavvicinarci per ricondividere e condividendo la sua parola. Casa Felice è la certezza che Gesù è capace di riempire di gioia il nostro cuore se a lui apriamo la nostra vita e le nostre case. Don Romano, come si legge, fuori Satana, dentro Gesù. Proprio l'importanza di rimettere anche al centro delle famiglie Gesù. Sì, perché nelle famiglie c'è anche tanta sofferenza. A volte per la fatica della vita quotidiana, per lo stress, si rientra dal lavoro dove magari si rientra più stressati per l'ambiente che per la fatica lavorativa. E poi per tanti motivi si prega di meno, si vive di meno la vita di parrocchia, di sacramenti e si sta male in casa. Allora rimettere al centro Gesù non è dare un impegno in più ad una famiglia che ha già i suoi problemi, ma poter offrire quella pace che tutti desideriamo e spesso facciamo fatica a trovare. Gesù porta la pace perché Gesù allontana lo spirito della discordia, lo spirito della divisione e crea comunione, crea amicizia, accoglienza, capacità di perdonarci, capacità di ricominciare, di ridarci fiducia. Quindi ecco il senso della benedizione. Benedire quello che c'è perché possa fiorire. Laddove si è creata aridità, morte, ritorni la vita, la vita nuova, la vita pasquale, la vita risorta. E questo fa tanto pensare anche a ciò che accade nelle grandi città come può essere Roma. Magari nei centri più piccoli viene vissuta anche in modo diverso, pensiamo anche alle nostre zone d'origine, nelle grandi città dove magari non ci si conosce, non ci si incontra da un pianerottolo all'altro. Rimettere un po' al centro quei nuclei che fanno la comunità è importante. Quando voi entrate nelle case portate naturalmente, come ci hai detto, ascolto, portate anche preghiera. Che preghiera portate? Come si svolge la benedizione? Solitamente non c'è uno schema fisso perché si adatta laddove si vede la situazione. Solitamente è proporre un momento di preghiera comune che può essere di ascolto di un breve brano della parola di Dio e di una preghiera comune che tutti possono sapere, il Padre Nostro, l'Ave Maria. E poi usiamo una preghiera che richiama quello che diceva giustamente il Vescovo che abbiamo appena ascoltato, che è la preghiera che si trova nella liturgia delle ore, nella compieda delle solennità. «Visita, oh Padre, questa casa, tieni lontano le insidi del maligno, vengano i santi angeli a custodirla nella pace e la tua benedizione rimanga sempre su questa casa e su chi vi abita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo con l'aspersione con l'acqua benedetta». Noi ci fermiamo all'ingresso per discrezione. Alcune famiglie poi dicono «Padre, però venga in tutte le stanze, allora andiamo in tutte le stanze a benedire con l'acqua benedetta, ma se no basta anche il corridoio», come anche nelle famiglie che non aprono una preghiera, una benedizione da fuori della porta, che non è un far violenza a chi non la vuole, ma per chi non apre perché non può, perché è fuori ed è anche dispiaciuto, sappia che siamo passati, abbiamo pregato, abbiamo lasciato un'immaginetta che è il ricordino come segno di una presenza che non disturba e non è un'imposizione per chi non la volesse, ovviamente. E allora, Don Romano, abbiamo accompagnato anche un altro sacerdote che è stato anche nostro ospite, Don Benedetto Labbate, parroco del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che visita la sua comunità. Guardiamo insieme. Stiamo andando a visitare le famiglie della parrocchia per la benedizione pasquale. È un appuntamento fisso. Ogni anno noi missionari del Preziosissimo Sangue scegliamo di fare questa benedizione pasquale. È vero, Roma è una città particolare, si vive spesso di lavoro e quindi non tutte le famiglie si trovano in casa quando noi andiamo a bussare alla loro porta. Però tanti, tanti, soprattutto gli anziani o magari le famiglie che sono abituate a questa tradizione, ci aspettano e ci accolgono molto volentieri. Perché la benedizione pasquale? Perché è un appuntamento, diciamo, con Gesù pastore che entra appunto nella casa. La famiglia si sente ben voluta, amata, cercata. E il segno dell'acqua, che da sempre è un segno di benedizione, di fecondità, di fertilità, ecco, dà un senso di protezione, di aiuto, come se si rinnovasse il senso del battesimo e quindi dell'adozione filiale da parte di Dio. Buonasera, sono al parroco per la benedizione della casa. Buonasera, piacere di un benedetto. Piacere, Patrizia. Ciao, Francesco. Ciao, benedetto. Prego, prego, per strada. La benedizione pasquale è un appuntamento annuale al quale tengo molto perché è una vicinanza della parrocchia all'interno della mia famiglia e vedo, diciamo, la presenza continua di questo, diciamo, scambio tra la parrocchia e la famiglia. Rapiva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta il ricordo del nostro battesimo e l'adesione a Cristo Signore, crucifisso risorto per la nostra saludezza. Amo. Questa benedizione chiaramente si allunga per tutta, diciamo, l'anno poi che inizia, diciamo, con questa quaresima e ce la portiamo dietro, insomma, per tutto l'anno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amo. È un po' la concretizzazione di quella chiesa in uscita a cui spesso in questi undici anni di pontificato che ricorrono proprio oggi Papa Francesco si richiama. Tu la definisci pastorale dei lontani. Sì, pastorale dei lontani perché significa dire che alcune persone non avrebbero nemmeno voglia di venire. Però con l'occasione che siamo noi ad andare a volte si apre anche un dialogo. A volte quel lontano poi diventerà un vicino, una persona addirittura collaboratore della comunità parrocchiale o persone che riprendono. Ho anche un chiarimento. Il viceparroco l'altro giorno mi diceva «Sai, sono andato in una famiglia che non veniva più in chiesa da diversi anni per un malinteso. Ha interpretato male una mia parola, è rimasta male. Io non me ne ero neanche accorto. Eppur non avendo fatto... Ma io gli ho chiesto perdono. Ci siamo abbracciati. Si è riaperto un capitolo». Vedete, pastorale dei lontani, tutto ciò che riguarda gli adulti, anche la pastorale dei battesimi, accogliere le famiglie che chiedono un battesimo o il corso prematrimoniale. Viene da sorridere perché si è appena concluso un corso travolgente la settimana scorsa con 14 coppie meravigliose e uno tra tutti, Alessio, con molta sincerità, ha detto «No, adoro, ma quando hai cominciato questo corso, ho detto «Che palle questo corso!». Poi invece la mattina del giovedì quando mi sveglio dico «Che bello! Oggi è giovedì, stasera c'è l'incontro!». «Che meraviglia, Don Romano!». Questo proprio racchiude un po' quello che ci siamo detti. Don Romano, grazie. Noi... Niente, perché ci è piaciuta questa storia e noi... È bello, anche perché... È una libertà che ci prendiamo perché, Don Romano, tu sei famiglia ormai. Certo. Cioè, è bello star con te. È talmente bello che sei tu che fa venire il sorriso a noi. E se abbiamo detto che in questo periodo in particolare Gesù bussa alle vostre porte, magari quest'oggi, nel suo giro, busserà proprio alla vostra porta e avrà il volto di Don Romano, il volto più bello che possiamo offrirvi questa mattina. Grazie. Grazie, Don Romano. Noi andiamo in pubblicità. Sai che dice? Ci facciamo una bella risata e poi ritorniamo, continuiamo a sorridere con Max Paiella. Fra poco. Grazie. 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 Grazie.